You're doing an administrative offense. You get the report and you go now or you go arrest. So move or you are arrested. Now, five seconds to go. What am I doing? One, two. Potete lasciarlo stare, per favore? Potete tenere giù le mani? Questa è la polizia austriaca che ci caccia. Ce ne stiamo andando. We are going away. We are going away. Siamo a Telfs, vicino a Innsbruck in Austria, e questo è l'Interalpen Hotel, dove si sono chiusi per quattro giorni 140 uomini e donne. Personalità economiche, politiche e bancarie tra le più influenti del pianeta è il gruppo Bilderberg, o Club Bilderberg. Ufficialmente si riunisce per favorire la cooperazione tra Europa e Stati Uniti, ma la segretezza delle riunioni, i giornalisti, tranne pochi e selezionati, non possono partecipare, genera sospetto e alimenta teorie del complotto. Nessuno qui può avvicinarsi all'albergo. La polizia austriaca sta in questo momento controllando zaini e documenti a tutte le persone che tentano di avvicinarsi verso l'Interalpen Hotel. La strada è stata completamente bloccata e questo checkpoint è stato posizionato solo alcuni giorni fa, per evitare appunto che qualsiasi persona si avvicini verso l'Interalpen Hotel, dove si sta svolgendo il meeting del Bilderberg. 2.100 agenti di polizia pattugliano la zona, anche a bordo di elicotteri armati. Qui è stata addirittura creata una zona militarizzata e vedete il filo spinato, al cui interno c'è un radar che controlla il possibile arrivo di aerei o elicotteri nel raggio di 50 chilometri. Le due strade che portano al resort sono bloccate. Attorno all'hotel sono posizionati questi furgoni di proprietà dell'autorità per le telecomunicazioni austriaca e servono a monitorare tutte le comunicazioni radio attraverso quell'antenna che punta direttamente verso l'albergo. Chi sono i membri del Bilderberg? Perché le loro riunioni sono segrete? Per capirlo incontriamo una scrittrice che studia i loro convegni. Il Bilderberg è un club privato, elitario, composto da HP di Stato, primi ministri, banchieri, editori del grande testato giornalistica che si incontra una volta all'anno non tanto per fare il punto della situazione ma per definire che cosa avverrà in futuro. Non a caso il Times nel 1977 definì i membri del Bilderberg una congrega formata dai più potenti, ricchi e influenti a livello politico e economico uomini occidentali dell'Occidente, Europa, Canada e Stati Uniti d'America che si siedono a un tavolo per pianificare gli eventi che accadranno come per caso, che devono sembrare che accadano per caso. Mentre giriamo queste immagini la polizia austriaca ci ferma. Ma quale è il problema? Ci chiede i documenti. Dicono che non possiamo sostare in questa zona e chiedono di perquisire la nostra automobile. I poliziotti frugano tra i nostri effetti personali e fotografano i nostri documenti. Qui tutti i giornalisti subiscono lo stesso trattamento. Charlie Skelton lavora per il giornale inglese The Guardian. Sul tavolo dei potenti del Bilderberg c'è il dossier sul TTIP. Il trattato transatlantico sul commercio e sugli investimenti tra Europa e Stati Uniti. Un giro d'affari di circa 500 miliardi l'anno, il 45% del PIL mondiale. Si teme sia il cavallo di Troia per introdurre merci e alimenti vietati in Europa. Ne discutono a porte chiuse personaggi del calibro di Jerome Disselblom, numero uno dell'Eurogruppo, assieme al Gotha bancario mondiale. Gli sarebbe anche dal lato una forma di liquidazione e di annullamento della democrazia, proprio perché questo trattato non è stato deciso, non soltanto deciso, neanche discusso in maniera democratica. Al Bilderberg sono stati invitati moltissimi banchieri, tra questi Benoit Couret, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, nel suo interesse discutere della situazione in Grecia con i capi delle maggiori banche europee. C'è tutto il potere, il Gotha dell'economia e della finanza, e ormai abbiamo visto che la politica in qualche modo è il braccio armato, esecutivo dell'alta finanza. Gli italiani invitati al Bilderberg sono John Elkamp, presidente di Fiat Chrysler Automobiles, il manager Franco Bernabè, ex amministratore delegato di Eni e Telecom, Gian Felice Rocca, industriale a capo di Techint. Nella lista anche Lilly Gruber, giornalista, e Mario Monti, ex consulente di Goldman Sachs ed ex presidente del Consiglio Italiano. A pochi chilometri dall'hotel, centinaia di persone si sono riunite per protestare contro il Bilderberg. Questo gruppo di Bilderberg è una entità privata, ha nothing to do with it, they're not elected, corporation heads who are bringing policies that affect all the world, not just one country, the whole world. What they want is that the company can produce cheap food, and we have to eat the cheap food, and the main thing sometimes is shit, and we have to eat the shit, and actually we want to have our quality, we want to have the prices for the small farmer and for big companies. Qui è stata impiegata polizia pubblica per un evento privato che poi non è reso pubblico a livello giornalistico. Ma di che cosa stiamo parlando? Noi vogliamo sapere ciò che si dicono lì dentro. Quindi tentiamo ancora di avvicinarci all'Interalpen Hotel, nonostante il divieto. Dopo un rifiuto iniziale ci permettono di raggiungere l'hotel solamente a piedi. Dobbiamo quindi camminare in salita sotto il sole per sei chilometri. Is it possible to get there? Can I talk with someone of the press office inside the hotel? Questo è chiuso, momentaneamente. Lei può andare sulla strada, su e giù, ma questo è chiuso. Dunque proviamo a seguire la strada del bosco, attorno all'albergo. La polizia ci segue passo dopo passo, fino a bloccarci di nuovo. Ma io non vedo nessun segno. Lei vuole ritornare? Ma io non vedo cartelli dove... Questo è chiuso, io le lo dico adesso. E deve bastare, io le lo dico. Questo, questa direzione... E' a questo punto che i poliziotti minacciano di arrestarci. Potete lasciarlo stare, per favore? Potete tenere giù le mani? Ce ne stiamo andando. We are going away, we are going away. We are going away. We are going away.